stanotte un po piovuto non tanto ma un po sì possiamo esserne felici o tantomeno possiamo regalarci la possibilità di non lamentarci con questa bella pioggiarella si vede il mais in queste file che incomincia a nascere e le patate assieme ai ceci che colonizzano questo fianco del settore ma noi oggi poniamo la nostra attenzione qui nella fila dei pomodori e dei fagioli in cui stiamo mettendo le lattughe per la moltiplicazione del seme per il progetto popolazione evolutiva coltiviamo lattughe in estate allora quello che andiamo a vedere oggi è un aspro ma necessario modus operandi per fare selezione genetica allora le prime lattughe che sono quelle nella fila di rimpetta furono trapiantate nel momento giusto tutte le piante erano belle tozze belle formate belle cariche e per adesso stanno continuando la loro gioiosa traiettoria queste altre che sono rimaste nei nei plateau sono praticamente vittime della nostra mia soprattutto inettitudine cosa vuol dire vuol dire che quel fatico giorno del trapianto non sono andato avanti con dedizione totale ma un certo punto mi sono fermato per dedicarmi ad altro probabilmente ad altri settori del campo ora non mi ricordo fatto sta che le lattughe rimanendo parcheggiate oltremodo all'interno degli alveoli incominciano a patire sia gli sbalzi idrici perché magari avrebbero sete e uno si dimentica di dare l'acqua cosa che mi è successa l'abbiamo visto negli ultimi video ma anche il fatto che le radici sono pronte molto volenterose per andare a terra ma non hanno la possibilità di espandersi allora tutti questi stress possono indurre nella pianta una reazione ad andare precocemente a fiore se noi ci soffermiamo con particolare attenzione sulla struttura di questa pianta di lattuga possiamo vedere che verso un allungamento sta andando in bacchetta si direbbe nel gergo cioè la distanza tra una foglia e l'altra la distanza internodale si fa via via maggiore quindi lei va verso un allungamento noi vorremmo invece che rimanese tozza per fare un bel caspo vediamo se c'è tra queste lattughe qualcuna che incarna questa caratteristica fisica questa già è messa un po meglio dico un po perché perché non tanto perché comunque ha la faccia di una lattuga che si vuole slanciare ma almeno vedete come le foglie sono più concentriche più tozze più ravvicinate alla sua base questa io la metto in una scala di valori come priorità rispetto a quest'altra che abbiamo appena visto paragonandole l'una a fianco all'altra credo che si possa vedere molto chiaramente di cosa stiamo parlando ma andiamo avanti andiamo avanti cercando diciamo il fenotipo ideale ecco questa già è molto meglio vedete come la rosetta di foglie per quanto allungate per quanto un po sofferenti è molto tozza vedete come la foglia centrale parte da un punto di accrescimento molto 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 ravvicinato alla base della pianta qui ritorniamo sul concetto di meristema apicale che abbiamo visto negli scorsi video ecco queste piante sono quelle che adesso preferisco selezionare in questo momento di trapianto perché mi dico se io voglio mantenere il seme di una lattuga che riesca a comportarsi bene che senso ha che io trapianto delle lattughe che vedo già che non si stanno comportando bene per il mio cannone estetico morale allora qui con una grande mano sul cuore si tratta purtroppo di tenere indietro di eliminare di scartare almeno dal campo di selezione queste ma noi oggi vogliamo andare a selezionare queste semplicemente per cui di tutte le lattughe che abbiamo rimasto sicuramente diminuirà molto il numero quindi non sappiamo neanche se riusciremo a finire la fila adesso comunque man mano che le estraggo faccio un conteggio voglio fare un conteggio per capire quante effettivamente si stanno comportando bene già dal plateau e quante non sono conformi alle nostre necessità per dare una minima idea di percentuale che tanto gratifica la nostra parte sinistra del cervello partiamo dalle piante buone selezionate cioè buone perché per dire perché alcune le ho messe dentro proprio per pietà per non essere tragicamente anichilitore folle però partiamo dal conteggio delle buone 1, 2, 10, 11 per 11 lattughe buone di non buone ne abbiamo una cioè di scartate ne abbiamo una, 2, 11 e abbiamo pareggiato 22 e abbiamo raddoppiato 29, 30 abbiamo quasi triplicato e voi mi direte ma sono così belle ragazzi purtroppo in questo caso la necessità di avere una buona selezione del seme restringe un po' i parametri di bellezza cioè sì sono oggettivamente belle perché sono piante la vita è bella sono volenterose si potrebbero usare loro stesse come lattughe da taglio a questo punto tagliarle e farci un'insalata almeno ma non è questo il punto non voglio porre il focus sull'esito di queste piante voglio porre il focus sul fatto che se si vuole fare selezione in ambito di agricoltura che se si vuole autoprodurre i semi in una logica di gloriosa autoproduzione se si vuole arrivare ad avere un seme che te lo pianti e sai che su 500 piante che metti a dimora non ne hai un terzo che ti vengono bene ma ne hai almeno due terzi per non dire tre quarti o quattro quinti o sette ottavi è necessario passare attraverso questa selezione allora la prima padella è completata ne ho recuperata un'altra e considerando che per pareggiare la fila bisogna circa arrivare lì secondo me se con una prima padella ho fatto questo pezzo con questa che mi sembra oggettivamente messa meglio mi è arrivata molta fiducia di poter arrivare almeno a pareggiare ora ci tengo a fare due precisazioni una è un'osservazione prima abbiamo visto delle vaschette da 12 quindi con molto meno terriccio queste sono vaschette da 6 hanno il doppio del terriccio quindi il doppio della possibilità di espansione radicale a colpo d'occhio mi sembra che globalmente questa padella stia meglio e mi sembra che ci sia un minor numero di piante che stanno già andando in bacchetta ora può essere un pro e può essere un contro perché magari questo è un risultato fittizio adesso sono belle così perché stanno comode ma magari appena hanno la possibilità scappano assieme precocemente questo lo andremo a vedere però è un'osservazione oggettiva queste sono più tozze più larghe più ben sviluppate più gloriose seconda osservazione effettivamente è importante ricordare che questa è una popolazione anzi è un miscuglio che vuole dare origine a una popolazione che parte con una cuola genetica di 12 varietà tutte di lattuga a cappuccio ma 12 diverse io sono andato su uno dei miei siti preferiti per acquistare sementi ho preso le 12 varietà che mi sembravano migliori ho mescolato il seme e ho proceduto alla semina in semenzaio come avete visto nel video delle semine capillari poi ho fatto il ripicchettamento come avete visto nei vari video ed eccoci qua per cui di quelle 12 varietà magari alcune non sono idonee alla coltivazione estiva magari alcune sono più selezionate per una coltivazione autunno-invernale io le ho perso su in modo un po' indiscriminato perché dallo stesso miscuglio voglio andare a selezionare due popolazioni una estiva che è quella che stiamo incominciando a piantare adesso e una autunno-invernale per cui questo è il primo passaggio se fossimo una qualunque realtà che punta a ottimizzare gli spazi a ottimizzare i tempi il numero delle piante allora sarebbe molto facile per noi trapiantarle tutte bombarle di azoto chimico ritardandogli nella maggior parte dei casi la fioritura o impedendogliela del tutto per farle corrispondere alla nostra necessità di produzione ma questo non è il nostro caso qui si sta facendo agricoltura di sussistenza per la gioia dello sperimentare per la gioia del ricollegarsi con le radici della tradizione contadina per riappropriarsi della sovranità alimentare della sovranità agricola questi sono i punti fondamentali che personalmente mi muovono e recuperare un seme che ti dia la possibilità di non andare per forza a ricomprarli è un passaggio per me cruciale fin dai primi momenti in cui mi sono mosso verso l'orticoltura per cui per la rubrica sono una brutta persona sappiate che questo è uno degli aspetti che si celano dietro alla selezione ora visto sulle lattughe visto così come lo stiamo guardando oggi può sembrare molto traumatico ma in realtà è quello che succede in natura in un qualche modo in modo diverso succede anche in natura quando molti semi nascono uno vicino all'altro c'è comunque la tendenza al predominio alla sopravvivenza per cui alcune piante arrivano poi a prendere sopravvento sulle altre di solito c'è questa caratteristica nella natura quindi se magari vi state come dire risentendo scandalizzando inasprendo o rimanendo male o qualunque altra emozione di turbamento nei confronti di questa visione io ci tengo a ricordare che qui si tratta fondamentalmente di valorizzare o no tutta la vita che abbiamo per le mani qui apriamo una parentesi farraginosa cioè io a volte penso se uno non volesse proprio in senso assoluto come dire danneggiare un essere vivente facciamo prendiamo in esame il fatto che magari abbiamo già deciso di non mangiare animali e abbiamo deciso magari di non sfruttarli per i loro derivati no questa è solo un'ipotesi un'ipotesi per ragionare allora si può arrivare a dire vabbè magari ci mangiamo almeno la verdura no almeno la verdura ce la mangiamo ma appunto poi può sorgere la riflessione ma una lattuga quando io la mangio la taglio viva cioè l'ho amata e accudita come una figlia per poi tagliarla viva allora da qui si può aprire tutto il filone di riflessione sul dire poi beh se volessi proprio proprio non danneggiare in nessuna parte una pianta se non volessi mutilarla nella radice se non volessi mutilarla nelle foglie se non volessi mangiarne il seme in quanto metaforico embrione di una pianta allora si arriva al dire ne mangi il frutto ne mangi il frutto perché in natura le piante sono predisposte per produrre un frutto succoso che invoglia proprio fisicamente il regno animale a mangiarlo per appunto trasportare il seme integro verso un altro luogo affinché possa risseminarsi e rinascere da questa riflessione mi sembra che nascono a diversi correnti di pensiero estetico-morali una di queste mi pare che si chiami fruttanesimo o fruttarianesimo o qualcosa del genere io tante volte ci penso a questa cosa no? la scelta di mangiare solo frutta per non danneggiare la vita poi mi dico se io da domani volessi fare questo se io da domani volessi portare avanti questo concetto va bene mi pianto il mio frutteto mi studio una situazione tale per cui tutto l'anno ho tutta la frutta che mi serve e va bene ma questa frutta ha i semi allora va bene che io mangi il frutto ma i semi che contiene dove li metto? li butto via? no non posso buttarli via perché se li butto via se li butto via sto comunque danneggiando un processo biologico sto comunque interferendo nella nella meravigliosa visione in cui la natura sia tutta un trionfo allora dovrei incominciare a mettermi a seminare ogni singolo seme in ogni singolo vasetto incomincierei ad avere per ogni mela che mi mangio circa altre otto piante a seconda di quanti semi ci trovo dentro a seconda di quanti semi poi nascono e quindi vorrebbe dire che ogni sessione di alimentazione andrebbe a produrre una quantità esponenziale di piante che prima o poi andrebbero a produrre una quantità esponenziale di frutta che prima o poi andrebbero a produrre una quantità esponenziale di seme che alla fin fine ci potrebbe comunque portare a dire dove le mettiamo tutte queste piante dove le mettiamo dove le mettiamo tutta questa vita questo è un paradosso portato all'estremo per identificare il fatto che la morte fa parte della vita la selezione fa parte della vita l'uomo alcuni uomini sembra che si stiano incominciando a entusiasmare per l'idea dell'immortalità se ben ricordo mi sembra di ricordare prendete la quale pinze perché non mi ricordo la fonte ho solo questa memoria vaga da verificare mi sembra di ricordare che le cellule tumorali hanno origine dal fatto che la cellula tra virgolette si dimentica di dover morire e allora anziché compiere il suo ciclo di terminazione permane e trasmette questa informazione trasmette questo comportamento questo codice genetico e da lì ha poi origine una massa di cellule che non sono intenzionate ad andarsene ecco oggi nel mondo mi sembra che una fetta di umanità si stia incominciando una piccolissima fetta di umanità si stia incominciando a muovere verso questa mi sento di dire bizzarra idea perché bizzarra perché quando guardo la natura vedo che ogni filo d'erba fa i semi e muore ogni albero prima o poi torna al suolo torna a decomporsi come diceva il buon sensei Masanobu Fukuoka lo cito non testualmente perché non mi ricordo le parole proprio al millimetro però mi ricordo mi sembra nella rivoluzione del filo di paglia in cui un certo punto affronta il tema della morte e dice guardo una spiga di grano no guardo una spiga di riso e la spiga di riso termina il suo ciclo vitale ma vive nelle migliaia di semi che dà al mondo e dice quando ho compreso questo ho superato la paura della morte ho abbandonato la paura della morte e niente questi sono i ragionamenti le riflessioni che sgorgono un sabato mattina in cui tutto è sereno oggi non c'è neanche vento e ci si trova a fare selezione naturale e ci si trova a gestire il subbuglio interiore perché comunque tutte queste piante sono veramente come delle figlie e quindi si fa appello alla memoria genetica contadina che portiamo nel nostro DNA e si applica un po' anche la fiducia la fiducia nella memoria contadina la fiducia nel lasciare andare le mani che vadano dove dove loro sanno voglio imparare tutto quello che posso dalle mie mani e dalla terra e dalla terra che inevitabilmente danza con esse e in qualche modo le orchestra sempre che io riesca a togliere il più possibile a